Tito Flavio Vespasiano, conosciuto solo come Vespasiano, è stato l'ultimo imperatore a succedere alla morte di Nerone. Fu lui infatti che mise fine al terribile biennio 68-69 e riportò la stabilità all'interno dell'impero, tra l'altro avendo una nuova fase di Roma, quella della dinastia Flavia. Noto per il suo spirito, Vespasiano era amato dalle folle e rispettato dall'esercito. Militare di lunga carriera era molto più adatto al campo di battaglia di quanto non lo fosse per le raffinatezze della corte imperiale. Era credenza all'epoca che, una volta morto, un imperatore subisse una sorta di apoteosi e ascendesse a forma divina. Così quando Vespasiano si prese una brutta malattia, la stessa che poi avrebbe causato la sua morte, pare che disse, accidenti, mi sa che diventerò Dio. Era molto simpatico. Vespasiano comunque è ricordato anche per aver iniziato una delle opere edilizie più famose di Roma. Sapete di cosa sto parlando?